Salve amici cripto investitori e benvenuti a tutti quanti al quinto ed ultimo episodio della guida alla finanza personale fatto da noi di The Crypto Gateway qua su YouTube. Visto che questo è l'ultimo episodio, vi comunico che l'intera guida ha avuto così tanto successo che abbiamo deciso di ricaricarla in forma scritta direttamente sul nostro sito web. E alla fine di questa guida ci sarà anche un quiz che se riuscirete a superare vi darà diritto ad un badge. Link in descrizione per non perdervela. Se invece vi trovate in questo episodio perché magari l'algoritmo di YouTube ve l'ha suggerito e non avete visto gli episodi precedenti vi consiglio di recuperare cliccando direttamente qua in alto. Benissimo, arriviamo adesso a quello che è l'episodio di oggi. Visto che durante tutti gli episodi di questa guida visti in precedenza mi avete imparato bene o male a conoscere sapete quanto io ci tenga molto a parlare della finanza personale sia nell'aspetto teorico che nell'aspetto pratico. E infatti durante gli scorsi episodi vi ho fornito sempre delle tabelle Excel a supporto degli esempi che vi ho portato. Oggi però voglio fare qualcosa di diverso. Voglio suggerirvi un'applicazione chiamata FinHub che è nata per questo e che quindi ha un approccio diverso da quello delle tabelle Excel che sono sì sicuramente un buon modo per fare operazioni come il monitoraggio delle spese, il calcolo del cash flow ma sono per me inadatte per andare a gestire e monitorare continuamente l'andamento dei nostri conti. Per questo motivo ho deciso di lasciare l'ultimo episodio di questa guida come tutorial pratico all'utilizzo di FinHub un'applicazione gratuita che vi consentirà di gestire in maniera semplice e dinamica i vostri flussi di cassa e poter monitorare l'andamento dei vostri investimenti che in questa guida sono stati semplicemente accennati. In più, visto che so benissimo che i 5 episodi non sono abbastanza per poter comprendere tutte le sfaccettature della finanza personale ho lasciato nella parte finale di questo episodio una lista di libri, canali YouTube e serie di video o docu-serie inerenti a questo argomento che, se presi nel singolo o nel complessivo, possono migliorare la vostra conoscenza su questo argomento e rendervi minuto dopo minuto sempre più consci di come questa disciplina sia necessaria alla sopravvivenza di ciascuno di noi. Benissimo, adesso che abbiamo finito i convenevoli andiamo dritti al punto e andiamo quindi a scaricare l'applicazione di FinHub direttamente dal nostro Google Store o dal nostro Apple Store. In descrizione trovate ovviamente i vari link per andare direttamente a scaricare quest'app. Passiamo adesso al tutorial pratico del suo funzionamento. Spieghiamo prima di tutto cos'è FinHub. FinHub è un'applicazione gratuita e ad abbonamento che consente di gestire in maniera semplice e rapida le proprie finanze quotidiane di medio e lungo periodo. L'app ci permette parallelamente anche di poter gestire e tenere traccia di investimenti e portafogli di trading. L'interfaccia è molto intuitiva ed è possibile impostare una serie di comandi personalizzabili così da rendere l'esperienza d'uso molto più personale. Visto che questo è il corso di finanza personale cercheremo di comprendere il funzionamento dell'app in questo ambito così da non necessitare più di tabelle Excel o tabelle Sheet complesse che puntualmente necessitano un aggiornamento. Impareremo invece a sfruttare il più possibile questa applicazione così da avere più conti sotto il nostro controllo su un'applicazione sviluppata per questo. Una volta che abbiamo creato l'account accediamo all'home page dell'applicazione. Benissimo, una volta che abbiamo scaricato l'applicazione la apriremo. Una volta all'interno possiamo personalizzare il nostro profilo e andare a mettere il nostro nome, cognome, la nostra email e anche la nostra immagine di profilo. Fatto questo possiamo andare ad aggiungere alcuni dei nostri conti. Cliccando su aggiungi conto potremo scegliere tra quattro diversi risultati. Oggi vedremo solo il primo e il secondo cioè il conto corrente e il conto cash. Il conto corrente è ciò che deve essere identificato come conto primario ossia quello che riceve mensilmente eventuali stipendi o entrate volte a coprire le spese periodiche, giornaliere e di breve periodo. Sarà quindi il conto che ci permette di gestire praticamente il nostro cash flow. Il conto cash invece può essere visto come il secondo e o terzo conto che apriamo per gestire le rimanenze del cash flow come fondo d'emergenza e liquidità extra. Possiamo anche rinominarlo in conto secondario così da normalizzare i concetti di cui abbiamo parlato in precedenza. Durante la creazione del conto potremo scegliere il nome, scegliere la sua valuta di riferimento, scegliere un colore così da differenziarlo rispetto agli altri conti. Vado adesso a creare il mio conto e scriverò Chianti, banca, perché questo è il nome della mia banca, valuta, euro, saldo iniziale, per il momento mettiamo 0, colore, celeste, data saldo attuale, la data di oggi, escludi dal conto totale, no. E faccio aggiungi. Consiglio di segnalare la banca a cui appartiene il conto e il suo ruolo nella nostra strategia di suddivisione di capitali. Inoltre annotiamo per il momento il valore nominale del capitale detenuto al suo interno come 0. Una volta fatto ciò ci troveremo nella situazione in cui avremo 3 conti diversi con saldo complessivo pari a 0. Chiaramente se volete già inserire i vostri capitali potete farlo senza problemi. Ricordo inoltre che avere un conto corrente in una banca ha dei costi, per questo vi consiglio se potete di risparmiarvi la creazione di un eventuale terzo conto ma di poter scegliere all'interno della vostra banca se è possibile la creazione di un conto parallelo in modo tale da ridurre questi costi o al limite se volete aprire un altro conto corrente in un'altra banca di monitorare i costi e di lasciarli quanto più bassi possibili. Benissimo, adesso che abbiamo creato i vari conti all'interno dell'applicazione dovremo riempirli con i fondi detenuti al loro interno. FinHub è una perfetta applicazione per riportare le nostre spese al suo interno così da avere tutti i conti sotto mano e salvati in un'unica app. Tuttavia dovrete essere voi ad aggiornare i dati al suo interno altrimenti l'applicazione non potrà sapere dei movimenti che avete fatto all'esterno o all'interno di questi conti. Clicchiamo quindi su di un conto per far apparire la relativa schermata. Da qui potremo cliccare sul simbolo del più in basso così da cominciare ad annotare le varie transazioni in entrata o in uscita all'interno di questo conto. In questo menu sarà possibile indicare se si tratta di un'uscita, un'entrata o un trasferimento. Le prime due ci permettono di sottrarre o aggiungere dei capitali direttamente da questo conto mentre l'ultima, quella di trasferimento ci consente direttamente di trasferire dei capitali da un conto all'altro. Dopodiché potremo selezionare la categoria a cui appartiene questa transazione. Io potrò quindi inserire ad esempio 100 euro e scegliere tra le varie categorie che esistono o che possono essere aggiunte da noi in un secondo momento. Il menu delle categorie è completamente personalizzabile quindi potremo indicare al suo interno le famiglie di spese che abbiamo utilizzato in precedenza nella tabella che vi ho condiviso così come creare delle sottocategorie personali da aggiungere con un paio di click e avere sempre aggiornati i nostri conti. Fatto questo potremo anche indicare con una descrizione o con una nota eventuali motivazioni o remind che possano ricordarci la natura della spesa. In questo esempio io ho messo una transazione in uscita di 100 euro per un regalo che ho fatto ad un amico. Nella descrizione posso andare ad indicare il nome dell'amico. Regalo per Bob. La data in cui questa è avvenuta. Il beneficiario se questo avesse una serie di transazioni con noi ricorrenti. La data di trasferimento e anche eventuali tag che ci permettono di ricordare in breve che tipologia di spesa è stata. Quindi vizie. Come vedete le categorie e i tag possono essere personalizzati da noi a nostro piacimento. È possibile anche aggiungere un allegato come un PNG o un JPEG così da salvare eventuali scontrini da usare per un rimborso spese o per effettuare la detrazione fiscale. L'applicazione ci consente anche di escludere questa spesa dalle statistiche. Ad esempio nel caso fosse una spesa o un'entrata una tantum non prevista dalla nostra routine così da non sballare eventuali valori medi di cash flow. Per ultima cosa è possibile anche impostare delle entrate o delle uscite ricorrenti come lo stipendio o eventuali costi fissi così da non doverle ricreare tutte le volte nell'applicazione ma dandogli in questo modo una cadenza regolare. Ci basterà infatti cliccare su spesa ricorrente per potergli dare la nostra cadenza giornaliera, mensile o annuale. Nel caso di questo regalo e visto che questa è una spesa una tantum deselezionerò la spesa ricorrente e attiverò invece la esclusione dalle statistiche. Fatto questo faccio salva. A questo punto sarà possibile vedere all'interno del mio conto meno 100 euro perché essendo partito da zero lui non riconoscerà il quantitativo di soldi che sono al suo interno. Dopo aver compilato i vari campi per quanto riguarda la gestione dei vostri conti potrete cominciare a sfruttare FinHub per monitorare tutte le entrate e le uscite di breve periodo utilizzando questa applicazione come una dashboard personale direttamente nel vostro smartphone. Passiamo ora a vedere un esempio con conti correnti già riempiti in modo tale da poter avere una visione più delineata del funzionamento dell'applicazione. La cosa più importante e prioritaria da fare sarà quindi quella di segnarsi da subito le entrate e le uscite ricorrenti e costanti che abbiamo. Parliamo di movimenti come l'accredito dello stipendio l'affitto mensile l'abbonamento telefonico o di internet che potranno quindi essere impostati nell'applicazione per non doverli compilare ogni volta. La cadenza di questi movimenti sarà visualizzabile anche nel calendario così da sapere quando e come arriveranno alcune entrate o uscite. Vediamo adesso come andare ad impostare o a rimuovere un'entrata o un'uscita ricorrente. Ci basterà cliccare sul conto andare in ricorrenze e aggiungere con il più. Qua potremo mettere una spesa ad esempio 18 euro categoria altro mettiamo parrucchiere e gli diamo una ricorrenza mensile. A questo punto il nostro calendario saprà che tutti i mesi avrò da spendere 18 euro dal parrucchiere. Se invece volessimo rimuovere una spesa o un'entrata ricorrente ci basterà cliccare sul conto andare su ricorrenze cliccare su parrucchiere ed eliminare questa uscita. Oppure potremo anche passare direttamente da movimenti inserire qua la spesa di 18 euro la categoria parrucchiere e dargli una ricorrenza qua in basso. La spesa a questo punto verrà direttamente integrata nelle nostre ricorrenze. Come vedete posso anche andare a creare una categoria a mio piacimento. Per esempio posso mettere un'uscita da parte di 150 euro categoria cibo e bevante spesa. Se invece che spesa volessi essere più specifica e andare per esempio a selezionare dove faccio la spesa posso sempre aggiungere una nuova sottocategoria e mettere spesa S lunga. Così potrò anche monitorare quanto mi costa la spesa fatta all'S lunga rispetto ad altri supermercati. Come vedete in questo caso ho fatto un errore ho impostato che la spesa all'S lunga viene fatta giornalmente. In realtà questo è un errore e quindi vado ad eliminare la ricorrenza e a ricrearla con una nuova logica. Spesa S lunga e diamo la ricorrenza mensile a questo punto il mio portafoglio saprà che tutti i mesi avrò fatto questa spesa. Non vi consiglio onestamente di dare ricorrenza a spese che potrebbero essere variabili come ad esempio questa della spesa perché potrebbe succedere che magari un mese spendete di più o spendete di meno e poi vi trovate i vostri conti sballati. Quindi vi consiglio di andare ad inserire eventuali entrate e uscite variabili singolarmente. La piattaforma ha tantissime altre funzionalità utili al suo interno come ad esempio la possibilità di gestire portafogli di trading o portafogli di investimento. Vi consiglio di passare al suo interno una mezz'oretta buona cercando di esplorare gran parte di queste funzionalità. Se invece volete avere un tutorial per comprendere tutte le funzionalità al suo interno vi consiglio di andare a vedere questo video fatto da Luke qua su YouTube. Benissimo adesso che abbiamo finito tutto quello che era l'aspetto pratico di questo episodio andiamo a concludere la guida con tutta quella serie di fonti che mi sono state utili per la stesura di questa guida alla finanza personale e tutta la serie di altre fonti che potrebbero essere utili a voi per ampliare il concetto. Partiamo prima di tutto dalla serie di libri fondamentali per farsi una cultura sulla finanza personale ma anche su argomenti importanti che potrebbero comunque esserci utili nella vita come ad esempio la creazione di una routine e di buone abitudini. Partiamo dai libri perché questo a mio avviso è il modo migliore per apprendere un argomento in quanto l'autore di un libro deve cercare di scegliere in maniera oculata e corretta quali sono le parole giuste per far comprendere al lettore l'argomento di cui vuole parlare. Il primo che voglio presentarvi non parla di finanza personale ma è forse uno dei libri principali da cui partire per migliorare se stessi ed è Atomic Habits tradotto in italiano come piccole abitudini per grandi cambiamenti. Naturalmente qua sotto in descrizione vi lasciamo il link per andare a comprare questi libri. Questo libro è ricco di spunti e consigli pratici su come creare delle buone abitudini riuscendo in qualche modo ad ingannare noi stessi che a volte facciamo fatica a riuscire a migliorarci oppure a creare dei concetti di gamification che possono rendere lo sviluppo di queste abitudini più divertenti. Veniamo ora a due libri più citati per quanto riguarda la finanza personale cioè Padre ricco Padre povero e i quadranti del cash flow entrambi di Robert Kiyosaki. Questi due libriccini da più o meno 100 pagine l'uno spiegano pochi concetti fondamentali come per esempio che i soldi possono lavorare per noi e come gestire il nostro lavoro durante le varie fasi della vita. Il bello e il brutto dei libri di Robert è che ripete il concetto così tante volte in così tante forme che alla fine ti entra in testa per forza. Perfetto per chi ha le prime armi. Arriviamo adesso a dei libri più completi e ampi sull'argomento soldi risparmio e soprattutto su tutto quello che è l'aspetto psicologico di visione e gestione del denaro. Ecco un tridente che può fare al caso vostro. Soldi domina il gioco di Tony Robbins The Psychology of Money di Morgan Hussle Di questo c'è anche una docu-serie in lingua inglese su YouTube che va a condensare l'argomento del libro in 20 minuti. Terzo ed ultimo libro Your Money or Your Life Questi tre libri sono acquistabili in versione Kindle a pochissimo e alcuni di essi sono addirittura in forma gratuita in versione audio e permettono di avere una chiara visione di come reagisce il nostro cervello a tante questioni legate alla disciplina della gestione della propria finanza personale che spesso è l'aspetto chiave. Finito di parlare di libri è il momento di parlare dei vari canali YouTube italiani che seguo costantemente per aggiornarmi sull'argomento finanza personale e di cui loro sono esperti. Vi consiglio quindi di guardare alcuni dei video che hanno fatto e di seguirli per rimanere sempre aggiornati su eventuali libri che hanno letto o meglio su alcuni argomenti che hanno compreso più nel dettaglio. Il primo è Pietro Michelangeli che penso conosciate. È stato anche un ospite ad una live nel nostro canale YouTube qualche tempo fa. Pietro è un mio coetaneo e da qualche anno fa tanti video diversi su argomenti inerenti all'investimento e alla finanza personale. In video molto il modo in cui riesce a rendere semplici concetti molto complessi ed astratti. L'altro canale invece di cui sono totalmente addicted dai contenuti è quello di Mr. Rip conosciuto in lungo ed in largo dal pubblico di YouTube Italia per via dei contenuti gratuiti che regala al mondo di internet e per il suo odio viscerale per il mondo cripto. Spero vivamente un giorno di poterci fare una bella live insieme nel nostro canale o nel suo in modo tale da poter parlare di cripto di investimenti e di finanza personale così da potergli spiegare alcune cose che magari non ha compreso il mondo cripto e così da farci spiegare a noi di The Crypto e alcune cose che non abbiamo capito dell'investimento tradizionale o della finanza personale. Rip ha dedicato gran parte della sua vita per comprendere nel dettaglio l'argomento della finanza personale e il file acronimo di Financial Independence and Early Retirement e ha documentato tutto sul suo blog scritto in inglese. Come ultima sezione vi voglio consigliare qualche documentario docu-serie fruibile su questi argomenti che ho trovato nelle piattaforme streaming più conosciute come Netflix Amazon Prime Video ma anche YouTube. Il primo in assoluto è I soldi in poche parole di Netflix. Questa è una docu-serie in lingua inglese veramente ben fatta dove viene affrontato e spiegato l'argomento del denaro in episodi brevi. Nei vari episodi vengono spiegati alcuni argomenti importanti come il debito e il credito in forme diverse il gioco d'azzardo e il funzionamento del sistema pensionistico. Nella solita piattaforma vi consiglio di guardare anche alcuni episodi di un'altra docu-serie che penso sia la creatrice di quella citata precedentemente chiamata in poche parole. Ci sono alcuni episodi interessanti che fanno capire il funzionamento della borsa mondiale delle cripto-valute e altri argomenti interessanti utili per comprendere l'economia in generale. La seconda serie che vi consiglio è Get Smart with Money come gestire al meglio le tue finanze di Netflix. Questo è un docu-film in lingua inglese dalla durata di un'ora e mezzo dove vengono prese quattro persone diverse con problemi finanziari o con una cattiva gestione delle proprie finanze e gli vengono dati alcuni consigli per poter migliorare la propria situazione in un breve medio periodo. Personalmente ho visto la serie e devo ammettere che non è perfetta. Ci sono alcuni argomenti un po' troppo riassunti alcuni dati per scontato ma uno dei punti fondamentali che permette di comprendere è che la finanza personale è come un abito da cucirsi addosso e quindi qualcosa che va bene per me potrebbe non andare bene per qualcun altro. È quindi indispensabile dal nostro punto di vista capire come siamo fatti quali sono i nostri problemi e quali sono i miglioramenti che vogliamo conseguire. Arriviamo adesso agli ultimi tre documentari fatti tutti in lingua inglese. Il primo Personal Finance How To Il secondo Money and Life Economics Documentary Il terzo Escaping the Rat Race o The Rat Race Sono tutti e tre dei documenti fatti molto bene sulla finanza personale. Ogni autore decide di esprimere il concetto in maniera diversa e di dare il proprio punto di vista sull'argomento. Ovviamente non dovete vederli per forza ma vi consiglio vivamente di farlo per due motivi. Il primo è quello di aumentare le proprie capacità nell'ascolto della lingua inglese e l'altro è di valutare il concetto da punti di vista diversi per poter capire nel dettaglio alcuni argomenti che nella guida sono mancati o solo accennati. Vado ora a chiudere l'episodio di oggi e l'intera guida con un paio di parole che secondo me sono importanti per la conclusione di questo breve percorso insieme. Sappiamo benissimo che questi cinque episodi della durata di 20 minuti l'uno non siano sufficienti per rendervi degli esperti della finanza personale. Tuttavia speriamo che questa serie di video possa essere utile a chiunque non avesse una conoscenza approfondita di questo argomento e a chiunque si volesse migliorare in questo aspetto della vita. Ed è per questo che abbiamo quindi deciso di darvi dei tool basilari che vi consentono di poter gestire al meglio i vostri soldi e quindi anche il vostro tempo. Vi consiglio un'ultima volta di cominciare dalle piccole cose partendo con obiettivi semplici e poche regole e di aggiungere poco per volta nuove norme e regole per raggiungere obiettivi sempre più complessi. La soddisfazione che otterrete vedendo il vostro cash flow comportarsi come avevate già preventivato sarà la benzina che vi farà continuare a gestire le vostre finanze al meglio diventando capaci di poter dominare alcuni dei vostri istinti più impulsivi che vi portano a volte a fare degli acquisti non tanto per la gioia di farli ma solo e solamente perché ve lo suggerisce la testa. Riuscire a mettere da parte dei soldi e crearvi un fondo d'emergenza non solo vi permetterà di togliervi delle soddisfazioni nel medio periodo ma anche di non cadere vittima degli eventi e dover di conseguenza prendere dei soldi in prestito tramite qualche banca o finanziaria pronta a spennarvi. Gran parte di queste istituzioni campa su tutte su tutte quelle persone che non sanno come mettersi da parte un centinaio di euro al mese siate più furbi della massa e cercate di dimostrare a voi stessi che un imprevisto può essere coperto dalla serie di ragionamenti e azioni corrette fatte in passato tramite l'accantonamento di capitale oppure se proprio dovete aprire un finanziamento fatelo ma fatevi anche un piano per poterlo chiudere in anticipo così da pagare meno interesse la liquidità extra sarà l'ultimo scalino di questa crescita personale che una volta superato vi consentirà di accedere a un nuovo piano quello degli investimenti qui se continuerete a muovermi cautamente e seguendo delle regole otterrete negli anni successivi altre soddisfazioni riuscendo a conseguire obiettivi che potrebbero presto o tardi farvi salvare del tempo in un lavoro che non vi piace o regalare a voi o alle persone che repoterete meritevoli una parte della vostra ricchezza continuate quindi a migliorarvi e a utilizzare i tool che vi abbiamo fornito o a utilizzarne dei vostri creati appositamente da voi ma rimanete fedeli a ciò che vi siete imposti perché l'unico modo per poter scappare dalla corsa del topo in cui gran parte delle persone finiscono intrappolate è accorgersi di essere in gabbia e creare quindi un piano di fuga che ci consenta di uscire nel nostro caso ciò significa capire le regole del gioco crearci delle regole nostre e comprendere veramente che cosa ci fa essere felici comprendendo che i soldi sono solo e solamente uno strumento e che i nostri obiettivi sono raggiungibili ci vuole solo un po' di pazienza costanza e un piano ben delineato per concludere in bellezza ho voluto condividervi qua a schermo e in descrizione in formato pdf questa bellissima immagine che ci permette di ripercorrere punto per punto quelli che sono stati gli argomenti visti in questa guida alla finanza personale mi raccomando fatene buon uso io ragazzi sono arrivato veramente alla fine di questo video e prima di concludere vi chiedo un solo favore grandissimo non si tratta del like al video non si tratta della condivisione del video con tutte le persone che pensiate possano beneficiare di queste informazioni si tratta di continuare a studiare non mollate ragazzi i francesi ci sono davanti di così e noi non dobbiamo mollare mi raccomando questo è più importante del cash flow del monitoraggio delle spese del ribilanciamento noi dobbiamo battere i francesi quindi mi raccomando ragazzi state sul pezzo io per oggi ho finito vi saluto buona serata ciao ciao